Presidente, al Via Teramo la nuova raccolta differenziata attraverso dei contenitori condominali si parte con la carta e il vetro? Sì, partiamo con la carta e il vetro in modo generalizzato. Questo perché? Perché una raccolta di questo tipo è comoda sia per i cittadini e chiaramente è più facile la raccolta da parte dei nostri operatori. I risparmi quali saranno? Il risparmio è prima di tutto un risparmio organizzativo, seconda cosa di sicurezza e dopo che avremo ripagato il costo dei carrellati sicuramente prevediamo diverse decine di migliaia di euro di risparmio. Tecnicamente con la nuova raccolta come ci si dovrà comportare per fare una raccolta differenziata? Come si deve? Una cosa che vorrei ricordare anche in merito al fatto di questa performance della Corepla, quindi la raccolta della plastica che secondo me in buona fede c'è una frazione della plastica che finisce nell'indifferenziato perché c'è il concetto di pulito nella raccolta dei rifiuti che forse i caramani hanno assorbito un po' troppo però pulito significa che la plastica ma comunque il vetro, qualsiasi contenitore, deve essere libero del suo contenuto. Non significa che dobbiamo lavare o comunque che deve essere pulito per essere conferito perché un rifiuto, anche se differenziato, rimane sempre un rifiuto. Si parte con carta e vetro? Ci sarà poi una evoluzione sulla raccolta condominiale? L'idea tecnica della struttura è quella di proporre alla nostra governance e quindi poi agli azionisti un ulteriore passaggio. Una volta verificata la maturità del cittadino sulla quale abbiamo quasi una certezza perché il Cinello Terramano è un cittadino ormai virtuoso, abituato a differenziare vorremmo inserire anche una raccolta condominiale dell'organico, della frazione organica e fare un ragionamento diverso sulle frazioni che non vada sicuramente a penalizzare il cittadino ma consenta di ottenere un'economia sia in termini di costi che di produttività.